Interrompiamo un attimo durante l'allenamento all'aperto di SDF Training l'istruttore anche di difesa personale Gabriele Posca parlaci un po' dell'esame che hanno sostenuto i ragazzi dell'SDF Training qualche tempo fa in palestra a Olimpia I nostri ragazzi hanno sostenuto un ottimo esame hanno secondo me soddisfatto tutti gli obiettivi che ci eravamo previsti legati alla loro capacità motoria in generale hanno ora tutte le basi necessarie per affrontare lo sviluppo vero e proprio della difesa personale io e Niccolò non possiamo essere altro che contenti i nostri ragazzi ringraziamo Gabriele Posca e lo lasciamo all'allenamento all'aperto